C'era una volta, miei cari bambini, sia grandi che piccini, Gesù che giaceva in una stalla, molto tempo prima che gli crescesse la barba. È bello sapere che... E' storta, parlo della barba. E lui ne aveva una, e questo prima che gli capitasse di morire sulla croce. Oh, che sfortuna. Alle donne piace molto la barba. No, lascia perdere, Justina. Ti piacerebbe. Sai cosa mi piacerebbe? Vedere la tua faccia, quando perderai? A Betlemme arrivarono i freddoliti Giuseppe e Maria. Giuseppe e Maria! Eccoci! Mio caro Gesù bambino, è così difficile essere una madre singola. Tutta sola? Sì, tutta sola. Tutta sola? Oh, Giuseppe, ci sei anche tu. Sono qui, ma ho mal di stomaco. Quando è che i rei magi porteranno la mirra? La mirra non è commestibile, Giuseppe. Cara Maria! Vai. Perché abbiamo avuto questo bambino? Lui non è tuo figlio, sei solo il patrigno. È vero, Giuseppe, Dio è suo padre. Non piangere piccolino, tuo padre è qui, tuo padre che è Dio. Oh, povera me, mi hai davvero spaventata. Ma quando avrò aiuto? Giuseppe sa solo fare i tavoli, ma quando metterà qualcosa sulla tavola? Mangiamo la pecora? Grazie. Grazie. Grazie.